Io sono un Product Manager di Freelance, di Terra Nova e siamo qui per dare un contributo a livello di soluzioni software e in particolare oggi ci occupiamo di innovazione tramite l'utilizzo di tecnologie di ultima generazione molto discussi anche in questo periodo come l'intelligenza artificiale e ecco quindi oggi daremo questo contributo anche per il nostro pubblico che insomma richiede questo tipo di approcci per massimizzare l'efficienza di queste aziende e per fornire soluzioni software che permettono una maggiore automazione dei processi e in questo caso poi anche qualche cosa in più. Come vi interfacciate con il settore energia? Noi abbiamo a disposizione una suite software molto ampia che si compone di un CRM, di un sistema di Vita2Cash per operatori del mercato dell'energia e del gas, dai piccoli operatori fino ai grandi clienti quindi copriamo un po' tutte le esigenze di questo mercato. Quindi oggi la vostra presenza qui è per farvi conoscere un po' tutto il settore. Assolutamente sì e speriamo di conquistare più platea possibile.